Buonasera, si sente? Sì, facciamo una cosa classica, ma facciamo anche una cosa un po' spericolata oggi, perché parliamo proprio di un classico contemporaneo, di solito i classici sono quegli autori che il tempo ha benedetto, cioè nel senso che sono passati 50 anni, 60 anni, 100 anni, 200 anni, e sappiamo appunto che Mark Twain ormai è chiaro che è un classico, perché è alla base della letteratura statunitense. Noi parliamo di un classico contemporaneo, di quello che è, quindi, come dire, prendetela come un'opinione personale, anche se è maturata nel corso di una decina d'anni, quella che secondo il sottoscritto, quindi un invito alla lettura, è, mi sembra, il più grande scrittore per adesso, per il ventunesimo secolo. Ora, non ho detto che sia il più bravo, per quanto sia bravissimo, e non ho neanche detto che è il più grande del ventunesimo secolo, ma per il ventunesimo secolo, cioè lo scrittore che è meglio di altri, secondo me, ci può fare un po' da Virgilio, cioè da bussola, per addentrarci, proprio letterariamente, nel mondo in cui viviamo, e anche per capire che cosa si può fare ancora con la letteratura. Questa persona è Roberto Bolagno. Dico, è anche un po' bizzarro il fatto che io dica che è il più grande scrittore per adesso del ventunesimo secolo, dal momento che lui, poveretto, nel ventunesimo secolo ci ha vissuto soltanto per tre anni, perché è morto nel 2003 di Cirrosi Epatico, ma poi parleremo anche della morte di Bolagno, perché è importante, secondo me è importantissimo, oltre che è molto divertente leggere Roberto Bolagno, ecco, già proprio due consigli, se dovete leggervi due libri di Roberto Bolagno, se dovete leggervi un libro cominciate subito dai Detectives Selvaggi, qua c'è ancora la vecchia edizione Sellerio, Sellerio fu bravissimo, anzi Elvira Sellerio, Requiescat, che è morta due o tre anni fa, che si accorse che esisteva San Roberto Bolagno prima che fosse santificato, come è successo negli ultimi anni. Quindi i Detectives Selvaggi, se volete capire che cosa può fare la letteratura del ventunesimo secolo, e non l'avete letto, leggetevelo. Oppure, se volete andare invece al risparmio del vostro tempo, però insomma il tempo investito nei grandi libri non è mai sprecato, potete prendere uno dei suoi libri di racconti, lui è anche un bravissimo raccontatore, per esempio Puttani Assassine è, al di là del titolo, come dire, squillante, però è una bellissima raccolta di racconti, o Chiamate Telefoniche, è altra bellissima raccolta di racconti. Quindi dicevo, perché è così importante secondo me Roberto Bolagno? Perché è un po' la smentita di quello che ci avevamo raccontato durante gli anni 90. Durante gli anni 90 e del 900, voi siete appunto, di che generazione? Siete nati negli 80 più o meno, giusto? Negli anni 80, no, nei 90. Porca miseria, come mi fate sentire vecchio. Vabbè, allora, comunque, negli anni 90, fondamentalmente la cosa che si diceva sulle teorie della narrazione, lo si diceva anche proprio sulle teorie storiche, cioè che è caduto il mondo diviso in due blocchi, cioè che è caduto il muro di Berlino, finita appunto la contrapposizione che c'era stato per 50 anni fra Ursa e Stati Uniti, era finita la storia. Cioè ci fu proprio uno storico che si chiamava Fukuyama, che scrisse un libro, si chiamava La fine della storia. Cioè è finita la guerra fredda e quindi inizia un periodo meraviglioso, fatto di pace, fratellanza, prosperità, tutte minchiate, perché poi abbiamo visto come è andata a finire. E infatti però, insieme a questa cosa qua, ci dicevano che tutte le storie erano state raccontate fondamentalmente e a noi che cosa restava da fare a chi racconta storie se non rileggere William Shakespeare o Genossini in chiave pop, cioè se non fare delle cover. Invece appunto la smentita, la smentita che la storia era finita, come dire già la potevate avere tre anni dopo la caduta del muro di Berlino nel 92 quando scoppia la guerra di Yugoslavia, si capisce che manco per niente purtroppo la storia è finita, in quel senso lì, ma Roberto Bolagno è un po' la testimonianza che non è vero che tutte quante le storie sono state raccontate e soprattutto non è vero che tutti i modi, tutte le tecniche per raccontare una storia sono state esperite, perché effettivamente un libro come Detective Selvaggi, se non ci fosse, non trovereste, come dire, un analogo, proprio come struttura narrativa, come tipo di linguaggio, come modo per raccontare una storia, come modo anche per raccontare in qualche modo le nostre vite. Allora, dicevo che Bolagno è morto nel 2003, è morto nel 2003 perché aveva una cirrosi epatica e non ha fatto in tempo a fare il trapianto di fegato. Ah, è nato in Cile, è uno scrittore cileno che poi, che è molto viaggiato per l'America Latina, molto avventurosamente, è nato molto povero Roberto Bolagno, era figlio di un camionista e veniva, come lui dice, da generazioni di rigoroso analfabetismo e rigoroso proletariato, è morto appunto, secondo la leggenda, è morto perché non è riuscito a fare in tempo il trapianto di fegato, ma secondo la leggenda letteraria, la leggenda vorrebbe che Bolagno fosse morto perché era talmente impegnato a scrivere il suo ultimo romanzo, che si intitola 2666, che forse l'avete visto in libreria, questo ha delfone grosso, oltre più di mille pagine, quello è il secondo grande romanzo di Bolagno, insieme ai detective selvaggi, e anche la testimonianza, secondo me, che è un romanzo così lungo, così complesso, quello di detective selvaggi è un bel tomone, però va abbastanza a braccetto con la leggibilità e con la godibilità. Insomma, secondo la leggenda letteraria, che poi l'ha fatto diventare anche celebre come una specie di santino, come una specie di San Roberto Bolagno, è che lui era talmente attaccato a sto 2666 che si è dimenticato di mettersi in lista per il trapianto di fegato, e quindi è morto a 50 anni, perché nel 2003 Roberto Bolagno aveva 50 anni. Ora, voi che, alcuni di voi vogliono scrivere, quelli che non vogliono scrivere comunque sono interessati alla letteratura, perché altrimenti non sareste qui, allora, io direi di prendere con le pinze le leggende letterarie, cioè, le leggende letterarie sono quelle che sono, spesso sono una mezza verità, a volte manco quella, magari sarà stato vero, no, che la scrittura di questo grandioso romanzo serviva a Bolagno per non pensare alla morte, per rimuovere l'idea della morte, ma magari invece no, magari è tutta una fesseria, magari Roberto Bolagno, magari la letteratura, magari, semplicemente nell'ospedale dove aveva chiesto di fare il trapianto di fegato in vicino Marcellona, abitava negli ultimi anni della sua vita, semplicemente non l'avevano messo in lista. Perché dico queste cose qua sulla demolizione della leggenda di Roberto Bolagno? Perché Roberto Bolagno è diventato famoso per la sua vita molto, cioè è esploso a un certo punto negli Stati Uniti perché sembrava una specie di scrittore maledetto, vagabondo, cosa che effettivamente era, a un certo punto ci fu in, fu messa in giro la voce che fosse stato un eroenomane perché questo lo faceva un po' diventare il Jim Morrison della letteratura fine novecentesca, ma tutte queste cose qua, voi che vi interessate di letteratura, che volete scrivere, non mi viene a fottere niente. Perché fondamentalmente a che cosa servono le leggende letterarie? Servono agli editori che devono far fruttare i diritti dei libri del caro istinto per vendere di più, servono ai giornalisti culturali che devono riempire le pagine con le vite spericolate degli autori quando sono molto più interessanti le storie che raccontano, e purtroppo qualche volta servono anche a noi lettori, a noi lettori quando siamo pigri, che appunto vorremmo che gli scrittori di cui ci innamoriamo vivessero, avessero vissuto una vita appunto spericolata, estrema, quando non c'è nulla di più spericolato, nulla di più estremo, nulla di più radicale, per esempio, di un racconto di Franz Kafka. Ecco, se volete l'eccezionalità in letteratura, non leggete le biografie, leggetevi i libri, leggetevi i grandi libri, quelli sono eccezionali, a essere, come dire, come Rimbaud o come Kafka, tutto sommato, a seconda del carattere che avete, come dire, potete avere un carattere da impiegatizio, un carattere da pazzo forsennato, non è questo, non è questo che fa la differenza in letteratura, quanti aeronomani ci sono e quanti impiegati in un'azienda di assicurazioni, più più impiegati in azienda di assicurazioni che aeronomani, però poi non è che diventano per questo tutti quanti William Barrocks o tutti quanti Franz Kafka. Conosciamo un po' meglio Roberto Bolagno, io in realtà me la sono preparata lunghissima questa lezione, però la riduco e poi la riallargo a seconda di come vedo che è la vostra attenzione. Allora, nasce in Cile nel 1953, da una famiglia molto povera, il padre fa il camionista, a 15 anni si trasferiscono con tutta la famiglia in Messico, il Messico diventa la terra proprio d'elezione di Roberto Bolagno, lui penserà sempre al Messico, anche quando si trasferirà in Europa, diciamo che uno scrittore che ha, infatti fa proprio un ponte, se vi leggete i libri di Bolagno, è metà letteratura sudamericana e metà letteratura europea, si può dire che Roberto Bolagno ha la testa e i piedi ben piantati in Europa, mentre le viscere e lo spirito come dire, sono vaporizzati fra il deserto e il cielo del Messico, quindi va in Messico dove diventa, che diventa un pochettino la sua, la sua patria di elezione, qui, nonostante sia di famiglia, appunto di analfabeti, proletari, di persone che non leggono, si trova nella biblioteca, in una delle biblioteche pubbliche di Città del Messico, il luogo dove si rifugia e si mette a scrivere, si mette a leggere praticamente tutto, cioè lui, Roberto Bolagno è uno di quegli scrittori che non si capisce come, sembra che abbia letto tutto quanto, sembra che abbia letto, cioè l'erudizione di Bolagno è veramente sterminata, pensate, a parte tutti i vari classici, Emily Bronti, Shakespeare, Pirartò, addirittura arriva a Sanguinetti, eccetera, eccetera, ma poi pensate che in un, tu dici come cacchio fa, in un racconto di Bolagno ambientato nel 77, c'è una ragazza che va in, fa un viaggio in Europa e manda le cartoline al suo fidanzato e gli manda una cartolina con Ranks Erox, che era un fumetto che veniva fatto in Italia con Tamburini e Liberatore, che erano questi due grandi autori di fumetti, uno dei due è ancora vivo, Liberatore, vive in Francia, tu dici come cacchio fa Roberto Bolagno a sapere che nel 77 c'era questo fumetto che si chiamava Ranks Erox, anche questo qua se non lo conoscete è stato una graphic novel antelittera veramente rivoluzionaria per l'epoca, così come anche a un certo punto c'è un racconto di Bolagno che si chiama Joanna Silvestri e lei, Joanna Silvestri è una pornostar che a Los Angeles accudisce l'ormai morente a causa dell'AIDS John Holmes, che lui chiama Jack Holmes e Joanna Silvestri a un certo punto fa una puntatina in Italia, torna a Los Angeles e noi la vediamo in macchina che va per Los Angeles con una audiocassetta di Nicola Di Bari perché essendo stato in Italia come cazzo fa Bolagno a conoscere addirittura capisco Antonio Nartò ma Nicola Di Bari e va bene comunque grande esperienza effettivamente capisco che la vita di Bolagno che la biografia possa sedurre anche per la sfiga perché Roberto Bolagno nel 73 quindi ormai a 20 anni ha fatto questa adolescenza messicana decide di tornare in Cile decide di tornare in Cile perché lui è anche politicamente abbastanza impegnato si considera un trotschista e tenendo conto che il presidente è Salvador Allende tutte le riforme socialistiche che sta facendo Salvador Allende lui e un gruppo di amici decidono ok torniamo di Cilene in Messico andiamo in Cile peccato che vanno in Cile proprio nel 1973 e ci arrivano pochi giorni prima il golpe di Augusto Pinochet quindi Bolagno che succede? viene messo in galera cioè arriva il trotschista tre giorni dopo che c'è stato il colpe o tre giorni prima adesso non mi ricordo viene messo in carcere Bolagno ma come in un film di Mario Bonicelli la detenzione di Bolagno dura otto giorni perché? perché i carcerieri di Bolagno i secondini sono dei suoi ex compagni di scuola media che quindi lo riconoscono e là stai è come sei finito lì e quindi praticamente lo liberano a quel punto Bolagno torna in Messico in Messico incontra il personaggio chiave diciamo così della sua vita la vera persona con cui fa la sua fuga d'amore che è Mario Santiago Papasquiaro cioè è un poeta scapigliatissimo stranissimo mezzo ubriacone che insieme a Bolagno fonda questo movimento scassatissimo di poeti che loro chiamano infrarrealismo che poi nei detective selvaggi diventerà irrealvisceralismo cioè questo molti scrittori hanno bisogno di una musa non necessariamente anche per un maschio eterosessuale come Bolagno la musa deve essere per forza una donna può essere anche un altro maschio pensate a Jack Kerouac con Dean Moriarty non sulla strada senza Dean Moriarty che non è un grande scrittore ma è la parte selvaggia di Jack Kerouac Jack Kerouac probabilmente non avrebbe scritto sulla strada senza Mario Santiago Papasquiaro non è detto che Bolagno avrebbe scritto i detective selvaggi anche perché i detective selvaggi è la storia di due poeti scapestrati che se ne vanno in giro tra il 76 e il 96 tra l'America Latina e l'Europa e questo romanzo picaresco ha come protagonisti proprio Roberto Belano che è la trasposizione di Roberto Bolagno e Ulisse Slima che sarebbe la trasposizione di Mario Santiago Papasquiaro quindi è anche un po' una specie di romanzo autobiografico rimane con questo Papasquiaro a fare questa specie di dadalismo la messicana che si chiamava infrarrealismo e poi va si trasferisce in Europa quindi varca l'oceano quindi va in quella che è la sua patria intellettuale mentre Sud America è la sua come dire patria oltre che di nascita diciamo così ideali di immaginario di vita di formazione e qui rimarrà rimarrà in Spagna praticamente fin quando non muore scrive fa tutti quanti i mestieri possibili immaginabili scrive comincia a pubblicare pubblica e non vende pubblica e non vende fino a quando comincia un pochettino soprattutto con la pubblicazione dei detective selvaggi a diventare un po' uno scrittore famoso poi diventa una specie di scrittore di culto poi diventa una specie di dio della letteratura poi diventa un santo quando appunto muore vicirosi epatica in Spagna però appunto io vi farei conoscere Bolagno un pochettino meglio attraverso se stesso lui era bravo era molto bravo a rilasciare interviste era più bravo a scrivere perché anche qua è tutta divulgazione letteraria quella che stiamo facendo perché poi se uno non si legge libri tutto quello che stiamo dicendo non serve a una mazza cioè la cosa parlare di libri è l'invito a leggerli se no veramente è semplice spettacolino allora appunto lui si faceva intervistare arriva a farsi intervistare fino a pochi giorni prima di morire ma prendiamola appunto alla lontana questa è un'intervista che gli fa un tale Elisio Alvarez comincia dall'inizio il tuo amore per la letteratura per i libri è stato in qualche modo ispirato dai tuoi genitori e Roberto Bolagno risponde a essere sinceri no in termini per così dire genealogici la mia famiglia paterna si trascinava dietro almeno 500 anni di analfabetismo costante e rigoroso mentre quella materna se ne trascinava dietro 300 di intolè di indolenza altrettanto costante e rigorosa in questo senso sono la pecora nera della famiglia perché appunto era interessato ai libri avrebbero preferito che facessi qualsiasi altra cosa suppongo e in effetti con l'esperienza che ho adesso a 50 anni ah 50 anni c'ha già quindi sta proprio per morire nemmeno a me piacerebbe che mio figlio facesse lo scrittore non dico che debba portare avanti 500 anni di analfabetismo ma almeno i 300 di indolenza sì è abbastanza dura fare lo scrittore dice Bolagno anche se beh non bisogna neanche esagerare mia madre leggeva qualche libro quindi qualche traccia come dire nel background c'è mio padre di tanto in tanto leggeva dei romanzetti di cowboy li leggeva perché non c'era la televisione erano quei western di formato molto ridotto che entravano nella tasca di dietro dei pantaloni come hai scoperto la letteratura? e Bolagno risponde ero un bambino un adolescente molto sensibile mio padre non ha fatto solo il camionista è stato anche campione di pesi massimi in Cile meridionale come pugile professionista davanti a quell'uomo non avevi scelta o eri più forte di lui o passavi direttamente all'omosessualità se fosse di peso da me sarei passato direttamente all'omosessualità che mi sembra un magnifico sbocco estetico ma non era nella mia natura sono eterosessuale a quel punto mi restavano soltanto il cinema e i libri e in sostanza da bambino mi sono dedicato a guardare un sacco di film e a leggere un sacco di libri e a cercare di uscire mio padre è ovvio mio padre naturalmente mi ha sempre voluto un gran bene come ogni padre ora mio figlio cerca di ammazzare me e io sono il primo a dirgli ammazzami figliuolo ecco qua il collo è come la storiella della madre ebrea il figlio in una notte di follia le taglia la testa poi fugge inciampa e appena inciampa la testa della madre che lui stringe ancora in mano gli dice figliuolo ti sei fatto male? l'amore di un padre per il figlio è uguale e suppongo che mio padre nella sua brutalità e nel suo coraggio perché è un uomo molto coraggioso mi volesse bene come io voglio bene a mio figlio questo è un po' cominciate a capire qual è il carattere di Bolagno quando andrasti in Messico quindi lui si trasferisce giovanissimo in Messico come dicevo quali erano le differenze più forti a cui facesti fatica ad abituarti appena dal Cile lui si trasferisce in Messico quindi prima di tornare e di farsi arrestare pochissime risponde lui i messicani sono davvero molto ospitali avendo 15 anni in 4 e 4 8 mi messicanizzai mi sentivo completamente messicano non mi sono mai sentito uno straniero in Messico tranne il primo giorno di scuola non ci fu nulla a cui facessi fatica ad abituarmi e qua si entra nella politica perché lui comincia ad interessarsi di politica e diventa un troschista come arrivaste al troschismo? credo di fare il bastian contrario dice lui non mi piaceva l'unanimità sacerdotale clericale dei comunisti sono sempre stato di sinistra e non sarei certo passato alla destra solo perché non mi piacevano i chierici comunisti così diventai troschista il problema è che anche dopo quando mi ritrovai fra i troschisti non mi piaceva l'unanimità clericale dei troschisti e finì per diventare anarchico ero l'unico anarchico che conoscevo grazie a Dio perché in caso contrario avrei smesso di essere anarchico l'unanimità mi fa incazzare quando vedo che tutti sono d'accordo su qualcosa quando vedo che tutti lanciano in coro un anatema contro qualcosa sento un non so che a fior di pelle che mi dà il rigetto poi qua dice una cosa bella invece sempre sulla politica Allende Allende per voi doveva essere una specie di nonno la cosa interessante di Boragno lui è odiatissimo ancora oggi da Isabella Allende cioè dalla nipote perché la considera più una gastronoma che una scrittrice più una coaffer che una scrittrice e infatti l'Allende devo dire che non sono in disaccordo con questa cosa qua comunque Allende Salvador per voi doveva essere una specie di nonno e lui però qua dice una cosa veramente commovente perché dice sì Allende in quegli anni ci appariva a noi abbastanza conservatore e che per me la sua figura è cambiata moltissimo nel tempo ricordo l'11 settembre l'11 settembre non è l'11 settembre del 2001 è l'11 settembre del 73 cioè il giorno del colpo di stato in Cile stavo aspettando che mi dessero un'arma per andare a combattere dice Bolagno quando sento che Allende nel suo discorso dice tornate a casa passerà il tempo e un giorno si apriranno di nuovo i grandi viali su cui camminerà l'uomo libero in quel momento mi sembrò terribile dice Bolagno cioè noi saremmo andati a combattere per lui e lui ci diceva di tornare a casa questo è un tradimento nei confronti di noi giovani che eravamo pronti a lottare per lui negli anni invece questa è una delle cose che hanno nobilitato ai miei occhi la sua figura Allende voleva evitare la nostra morte accettava la morte per sé ma voleva evitarla a noi infatti morì Allende fu assassinato credo che questo l'abbia reso immensamente grande perché dicendo tornatevene a casa fondamentalmente gli ha salvato la vita ma ti arrestarono appunto mi arrestarono però un mese e mezzo dopo nel sud questa cosa era successa a Santiago e dei compagni ti aiutarono a scappare dei compagni di ricevo quindi non di scuola media rimasi in calcio 8 giorni anche se poco tempo fa appunto mi hanno domandato che cosa le è successo e poi racconta tutta la faccenda del suo arresto che abbiamo detto lui era soprattutto un poeta si considerava Bolagno lui diceva che scriveva romanzi anche qua non vi fidate troppo delle cose che dicono gli scrittori perché lui diceva di essersi dedicato alla prosa tra l'altro di romanzi che i detective selvaggi è un in qualche modo un un caposaldo della letteratura del ventunesimo secolo ma lo è come poteva essere secondo me faccio una previsione lo è come lo era stato Gita al faro di Virginia Woolf come poteva essere stato il furore di Faulkner come potevano essere stati questi capolavori del modernismo quindi non certo libri che vendevano un milione di copie anche se l'Ulisse di Joyce che vi devo dire l'Uomo senza qualità di Musil più o meno quello è il calibro a cui Bolagno cerca di stare il gioco del mondo di Cortázar ecco Cortázar è il grande fratello come dire maggiore di Roberto Bolagno questo anche per farvi capire che Roberto Bolagno racconta un Sud America molto diverso da quello raccontato dal realismo magico García Márquez è un grandissimo scrittore ma sta proprio agli antipodi rispetto a Roberto Bolagno Roberto Bolagno fondamentalmente dice guardate che attenzione il Sud America non è tutta macondo è in realtà un continente verticale che sprofonda quando è il caso in una notte abbastanza inquietante una notte popolata di incubi e non si come dire per mettere in scena il proprio carnevale macabro non si come dire non si non si risparmia la maschera mortifera di un Pinochet o non si risparmia il massacro di piazza delle tre culture del 68 in Messico dove morirono tutte quelle persone lì e quindi nonostante appunto Roberto Bolagno scrivesse libri che alla fine anche dopo la sua santificazione non pensate che lui possa vendere un centesimo di quanto vende Isabella Allende solo che di Isabella Allende fra un secolo ci saremmo tutti dimenticati mentre di Bolagno secondo me no lui diceva che si era dedicato che si è dedicato alla prosa per guadagnare ma è una cazzata comunque lui dice la prosa ha sempre richiesto più lavoro della poesia e noi eravamo contro il lavoro eravamo instancabilmente pigri nessuno riusciva a farci lavorare io lavoravo solo quando non mi restava altra scelta accettavamo di vivere con pochissimo non avendo mezzi eravamo molto spartani ma al tempo stesso eravamo atenesi e sodomiti perché ci godevamo i piaceri della vita eravamo poveri ma lussuriosi era tutto legato un po' forse al modello statunitense degli hippie al maggio del 68 in Europa insomma cose così ah una cosa Roberto Bolagno la cosa interessante che ha rispetto a noi nella sua letteratura è che non gliene fotte niente o gliene fotte pochissimo della letteratura statunitense arriva giusto appunto come diceva Martino Mark Twain forse arriva Faulkner dopodiché di tutti i vari Philip Roth Cormac McCarthy gli interessa davvero molto poco non perché non siano grandi scrittori quali sono grandissimi scrittori però questa ossessione degli Stati Uniti cioè abbiamo molto in Europa in Sud America hanno molto invece l'ossessione dell'Europa soprattutto ovviamente i latinoamericani hanno l'ossessione come dire il loro romanzo fondativo è per tutti il Don Quixote in qualche modo che lo è per Borges quindi lo è per gli scrittori argentini lo è per gli scrittori cileni lo è per gli scrittori colombiani la tua formazione sentimentale la devi al Messico? altra domanda quindi entriamo ecco i rapporti di coppia o i menage a trois o i menage a quattro sono una delle come dire dei piatti forti di Bolagno l'inizio di 2666 è bellissimo perché l'inizio di 2666 è divertentissimo si chiama la parte dei critici in cui ci sono quattro critici mi sembra come nelle barzellette un italiano un tedesco un francese e uno spagnolo che vanno che stanno sulle tracce di un certo Archimboldi che è un po' il Salinger della situazione c'è uno scrittore che non si fa mai vedere uno scrittore fantasma e insieme a questi quattro critici c'è una quinta critica che è una donna di cui i quattro o i tre si innamorano e quindi tutta la storia di questo menage a quattro di cui uno insiede a rotelle il quale la spunterà spoiler rischierà di spuntarla sugli altri ma tanto guardate i romanzi di Roberto Bolagno non ce ne frega niente come vanno a finire ogni pagina è importante di per sé quindi la formazione sentimentale l'educazione sentimentale dei personaggi di Bolagno è importante i sentimenti sono importanti in Bolagno la tua formazione sentimentale la devi al Messico e lui rispondi io al Messico la devo soprattutto la mia formazione intellettuale la formazione sentimentale la devo più alla Spagna quando arrivai in Spagna avevo 23 o 24 anni arrivai pensando di essere un uomo fatto e di sapere già tutto sul sesso e per me educazione sessuale è quasi sinonimo di educazione sentimentale ma in realtà non sapevo un bel nulla e me ne resi conto appena andai in Spagna con una ragazza quindi l'educazione sessuale l'ha imparata in Spagna ha dato qualche peso nella sua vita al fatto di essere nato dislessico no mi ha creato problemi quando giocavo a calcio sono mancino problemi quando mi masturbavo sono mancino problemi quando scrivevo sono destro come vedi nessun problema importante giustamente perché non ha l'aria condizionata nel suo studio e lui risponde perché il mio motto ecco se lo si è capito non è et in Arcadia ego ma et in Sparta ego quindi non ce l'ha condizionata non pensa che se si fosse ubriacato con Isabella Allende avrebbe un'altra opinione dei suoi libri non credo dice lui primo perché quelle signore evitano di bere con gente come me secondo perché ho smesso di bere perché era già malato di fegato poverino ah comunque lui diceva la cirrosi non perché era alcolizzato è perché gli è venuta terzo perché anche nelle sbronze peggiori ho sempre conservato un minimo di lucidità un qualche senso della prosodia e del ritmo un certo rifiuto del plagio della mediocrità e del silenzio lei è cileno spagnolo messicano e lui risponde sono sudamericano lei ha più nemici che amici ho amici e nemici a sufficienza tutti gratuiti poi dice Eugenio Montale o Elliot dice Montale se invece di Elliot ci fosse James Joyce Joyce se invece di Elliot ci fosse stato Ezra Pound senza dubbio Ezra Pound quindi come vedete è uno scrittore di sinistra però che giustamente non gliene frega niente di il talento è il talento il genio è il genio chi se ne importa se è Ezra Pound o se Selin c'è una cosa se andate su YouTube e digitate non so se qualcuno di voi ha questa compulsività Ezra Pound e Pasolini c'è quando la Rai ancora come dire trasmetteva cose commestibili c'è una Ezra Pound ormai quasi in avanti con l'età e c'è Pasolini il poeta giovane che rende omaggio nonostante Ezra Pound sia stato fascista a uno dei grandi poeti di inizio novecento è bellissimo c'è Pasolini che legge le poesie di Pound e Pound che non dice niente sta là così al massimo Bobo Fonchi è qualcosa ma è stupendo John Lennon Lady Di o Elvis Presley i Pogues dice o i Suicide o Bob Dylan risponde Bolagno però dai non facciamo i pretenziosi Elvis Forever Elvis con la sua stella da sceriffo e la sua ugola d'oro che si impasticca al volante di una Mustang e poi ancora questo io Bolagno piccolo inciso se c'è uno scrittore a cui lo contrappongo altro scrittore come dire a cavallo mi è venuto in mente leggendo questa domanda qui ha versato qualche lacrima per le tante critiche che ha ricevuto dai suoi nemici poi vi dico qual è la risposta dicevo Bolagno mi sembra un po' l'antitesi dell'altro grande scrittore canonizzato in vita fra il novecento e il ventunesimo secolo cioè David Foster Wallace David Foster Wallace che non so se conoscete se l'avete letto sì un po' sì è uno scrittore talentosissimo che però ha secondo me un problema cioè o meglio i romanzi di Foster Wallace come Infinite Jest è il romanzone di Foster Wallace uno dei grandi romanzi degli anni 90 Foster Wallace scrive dei romanzi sterminati ma un po' ermeticamente chiusi i romanzi di Bolagno sono romanzi aperti fondamentalmente Foster Wallace che si è suicidato è molto suicida David Foster Wallace tra l'altro questa cosa qua come dice c'è anche un po' una sorta di cordoglio personale per questa roba qui perché io ho lavorato per tanti anni in una delle case delle prime case editrici proprio al mondo che pubblicò David Foster Wallace fuori dagli Stati Uniti che è Minimum Fax cioè le prime due case editrici che pubblicarono David Foster Wallace furono la Fandango che addirittura la Fandango fu la prima nel mondo a parte degli Stati Uniti a tradurre Infinite Jest in una lingua straniera che non fosse appunto l'inglese e Minimum Fax che tradusse i racconti quindi insomma il fatto che me lo ricordo il giorno in cui David Foster Wallace si ammazzò me lo ricordo perché un sabato o una domenica io mi ero alzato tardi bevevo il caffè e stranamente accendo la tv e c'era una cosa tipo la news 24 e sotto scorre il nome David Foster Wallace quando in un telegiornale scorre il nome di uno scrittore due sole cose o ha vinto il Nobel o è morto perché se ha scritto un grande romanzo sa cosa qua non è che lo dicano di solito al telegiornale e quindi il Nobel non era tempo di Nobel in effetti quando noi mi ricordo Martina Testa è venuta qui alla Holden forse l'altro giorno ieri l'altro ieri insomma che è stata la traduttrice di David Foster Wallace per tanti anni una delle traduttrice di David Foster Wallace per tanti anni aveva mandato ricordo appunto delle mail a Foster Wallace perché poi c'era questo scambio fitto e negli ultimi mesi non mi ricordo se era il suo agente o qualcuno a lui vicino o suo assistente diceva scusate ma David non può rispondere perché c'ha dei problemi di salute problemi di stomaco in realtà i problemi di stomaco erano dovuti al fatto poi vi dico perché vi sto raccontando tutta questa cosa qua i fini letterari questi problemi di stomaco erano dovuti al fatto che lui in realtà soffriva di una depressione molto grave prendeva un sacco di psicofarmaci questi psicofarmaci alla lunga gli avevano provocato dei problemi allo stomaco fa la cazzata di sospenderli da un giorno all'altro depressione violenta si impicca nel suo garage mentre sta scrivendo il suo ultimo romanzo che poi uscirà in compiuto che è Pail King il re pallido che lo fece stile libero dato si impicca in maniera molto meticolosa quando la sua compagna è uscita di casa quindi sapendo anche che molto probabilmente il corpo sarebbe stato ritrovato dalla persona che lo amava quindi veramente agghiacciante questa cosa qui ora non voglio trovare chi si ammazza c'è avere tutte quante le sue ragioni è ingiusto andarle a cercare ma da un punto di vista letterario ecco mettiamola così un punto di non ritorno di Foster Wallace è il fatto che si vede moltissimo che lui ha proprio un'ansia da prestazione enorme questo è il le racconta pure cioè il libro di Foster Wallace se voi leggete appunto Infinite Jest o leggete il suo primo grande libro di racconti che è La ragazza dai capelli strani lui racconta un mondo che è un mondo in cui non so se devo dire viviamo o vivevamo cioè che è il mondo del turbo capitalismo dove appunto da una parte c'è una competizione sfrenata e dall'altra quindi l'altro lato della competizione sfrenata è proprio l'avanzia la prestazione enorme l'insicurezza enorme come il problema di dover essere per forza i primi della classe i più bravi Dave Foster Wallace era il primo della classe però il problema è che tu nei suoi romanzi questa cosa qua oltre lui a raccontare un mondo che funzionava in questo modo qui l'aveva proprio introiettata sta cazzo di ansia di prestazione esasperata e questa cosa qui letteralmente a un certo punto secondo me ha per quanto siano romanzi molto importanti libri molto importanti chiusi ermeticamente i racconti di Dave Foster Wallace sono i racconti di uno mostruosamente bravo dal talento mostruoso che però ha questo problema che ha introiettato questo problema qua Roberto Bolagno invece è uno scrittore non è un secondo me uno scrittore mostruosamente bravo è un genio e come tale se ne strafotte del problema del talento non so se ricordate la famosa frase di Nietzsche che poi uso Carmelo bene diceva il talento fa quello che deve il genio fa quello che può cioè non si pone no un non si mette ovviamente poi Bolagno è uno che ha letto tutti quanti i libri come vi sto raccontando è uno che ovviamente la tecnica ci tiene moltissimo però non ha questo problema qua e infatti la risposta alla domanda ha versato qualche lacrima per le tante critiche che hai ricevuto dai suoi nemici è una risposta scansonata però vi fa capire che tipo è moltissime lacrime risponde quando leggo che qualcuno parla male di me mi metto a piangere mi trascino per terra mi graffio smetto di scrivere per un lasto di tempo imprecisato perdo l'appetito fumo meno faccio sport esco a camminare in riva al mare che tra l'altro è a neanche 30 metri da casa mia e domando ai gabbiani i cui antenati mangiarono i pesci che mangiarono Ulisse perché io perché proprio io che non ho fatto nulla di male fondamentalmente non gliene fotte niente grazie a Dio qual è il giudizio però liberarsi da questa cosa qui è una cosa difficilissima che pochissimi scrittori riescono a liberarsi dall'ansia di prestazione Boragno questo problema non ce l'ha perché che cosa usa lui per non avere poi ognuno di noi usa quello che c'ha lui ha usato appunto il fatto che moriva di fame che cacchio gliene fotte di ricevere la medaglietta però ognuno usa quello che vuole cioè Tommaso di Lampedusa al contrario per non avere l'ansia della prestazione usava il fatto che era principe quindi tutto l'opposto di Roberto Boragno quando gli dicevano che mestiere fai a Tommaso di Lampedusa come che mestiere fai faccia il principe rispondeva lui che mestiere fai hai fatto chiedevano a Roberto Boragno tutti non è importante anche qua il background non è importante il background è importante riuscire a un certo punto a scavallare questa maledetta ansia da prestazione pensate appunto a Proust che a un certo punto si chiude in casa per una decina di anni e si mette a scrivere la recherche che è una partita a perdere scrivere un romanzo è sempre avere l'alito del fallimento sul collo perché quando scriviamo un articolo per un giornale sappiamo che cosa abbiamo fatto il giorno dopo due giorni dopo su una rivista su un blog su facebook abbiamo i feedback e forse anche dei feedback deliranti a cui noi attribuiamo come dire a chi ci ha giudicato un delirio ma abbiamo un riscontro immediato scrivere un romanzo vuol dire non sapere che cosa si sta facendo per uno due tre quattro anni quindi veramente avere come dicevo l'alito di un possibile fallimento sul collo però bisogna riuscire in qualche modo a esorcizzare questa cosa qua altrimenti ti strozza qual è il giudizio sulla sua opera che resta più a cuore i miei libri li legge Carolina mia moglie e poi Erralde il direttore editoriale di Anagrama che era la casa editrice spagnola che lo pubblicava e poi cerco di dimenticarne per sempre era un buon cameriere ah no quando viveva di concorsi letterari c'è un bellissimo racconto di Roberto Bolagno che racconta di come in Spagna all'inizio viveva di racconti di tornei letterari perché in Spagna pare che tutte le città le cittadine e spagnole abbiano l'amministrazione organizzati dei tornei letterari con una piccola somma 1000 euro 500 euro per i vincitori Bolagno partecipava a tutti questi tornei letterari e spesso vinceva il secondo e il terzo premio quindi per molto tempo si è mantenuto in questo modo qui bizzarro poi alcuni di questi racconti sono finiti nelle sue raccolte c'è un racconto bellissimo di Bolagno che si chiama Sensimi dove lui racconta che campa di concorsi letterari e a questi concorsi letterari di provincia scalcagnati dove viene invitato un giorno incontra Sensimi che è questo grande scrittore spagnolo e lui non ci crede che anche questo qua partecipa ai concorsi letterari perché evidentemente è finito in bolletta quando viveva di concorsi letterari c'è stato qualche premio che non è riuscito a incassare no le amministrazioni comunali spagnole sono su questo aspetto assolutamente integerrime era un buon cameriere o era più bravo a vendere bigiotteria perché come vi dicevo lui ha fatto tutti i mestieri il mestiere in cui me la sono cravata meglio è stato quello di guardiano notturno in un campeggio vicino a Barcellona finché sono rimasto lì non c'è stato nemmeno un furto ho impedito anche alcune risse che sarebbero potute finire molto male ha mai provato a fare ha mai provato però guardate che belle questo cioè tra l'altro scusate questo anche per per voi che nella vita vi troverete chi a scrivere un romanzo chi a scrivere articoli chi a fare interviste guardate che bella questa intervista qui cioè questa questa fa a Bolagno delle domande che se noi dovessimo intervistare uno scrittore non ci verrebbe in mente di farle no? era un buon cameriere che cazzo di domanda è? però no? ha mai provato la fame più tremenda? il freddo che entra nelle ossa il caldo che lascia senza fiato? e lui risponde come disse Vittorio Gasman quindi questo conosce pure Vittorio Gasman in un film modestamente sì ha mai rubato un libro che poi non le è piaciuto? poi su Repubblica o sul Corriere se le domande non le leggerete mai sapete qual è la rivista che ha intervistato a Bolagno per questa intervista qua? Playboy Messico perché Playboy in realtà aveva una tradizione di grandi intervisti cioè Gor Vidal scriveva su Playboy quindi ragazzi in topless però anche interviste fatte meglio di come le potrebbe fare il Corriere o la Repubblica o la Stampa o chi volete voi ecco su qualche blog magari questa intervista sarebbe immaginabile però pensate quando vi troverete a fare l'intervista a qualcuno uno scrittore un uomo di sport che potete osare se no sempre le solite domande quali sono i suoi autori di riferimento e quanto ci ha messo a scrivere questo libro e che cosa e invece no ha mai rubato un libro che poi non le è piaciuto? e lui risponde mai il bello di rubare libri e non cassaforti è che prima di commettere il crimine si può esaminare con cura il contenuto poi domanda ha mai visto la donna più bella del mondo altra domanda così c'è e lui risponde di sì sì quando lavoravo in un negozio sarà stato l'84 il negozio era vuoto ed entrò una donna hindù sembrava e forse era una principessa compro degli orecchini di bigiotteria io ovviamente stavo per svenire aveva la pelle ramata i capelli lunghi rossi e per il resto era perfetta la bellezza senza tempo quando dovetti farla pagare provai vergogna lei mi sorrise come per dire che capiva e non dovevo preoccuparmi poi scomparve e non ho più visto una come lei a volte penso che fosse la dea Calì in persona patrona di ladri e anche degli orefici per quale squadra tifa? ormai per nessuno risponde lui stavo per quelle che sono retrocesse in serie B e subito dopo in serie C e D fino a sparire le squadre fantasma c'è un racconto di Bolagno che qualche matto ha messo tutto su internet fottendosene dei diritti come si chiama il racconto non mi ricordo ma è un racconto in cui lui è un racconto calcistico è un racconto Buba bravi chi l'ha detto? grandissimo è Buba Buba sta sui incredibilmente qualcuno l'ha messo online Buba e quindi se proprio non vi volete comprare un libro di Bolagno almeno leggetevi Buba che trovate online ed è un racconto in cui lui si pensate come bravo Bolagno cioè è difficile scrivere un racconto su un Barcellona perché tu dici se io devo scrivere un racconto su un Barcellona ci devo mettere Messi ci devo mettere sotto i calciatori e invece lui proprio si reinventa completamente la squadra e si immagina appunto un giocatore questo Buba che arriva nel Barcellona e facendo degli strani rituali che non si capisce mai quali sono perché lui si chiude sempre in bagno ed esce grondante sangue quindi gli altri compagni di squadra non capiscono che cosa fa il Barcellona comincia a vincere vince 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 è bellissimo il racconto quindi vabbè comunque lui è tifa per le squadre fantasma tra l'altro scusate caratteristica di Bolagno io mi avevo preparato delle cose però le dico in mezzo in mezzo una caratteristica e questa cosa è difficile farla passare però ci provo chi l'ha letto secondo me la capisce chi non l'ha letto magari gli viene una curiosità la cosa strana di Bolagno è che lui è un po' un teppista vediamo se trovo la citazione che a un certo punto dice ecco c'è uno scrittore suo amico che dice quando Roberto Bolagno scrive i detective selvaggi quello che fa è come se dicesse a Garcia Marquez a Vargasiosa a Fuentes voi credevate di aver scritto il grande romanzo latinoamericano ebbene vi siete sbagliati questo è il grande romanzo latinoamericano e mi pare che qui dice Alan Pauls che è un scrittore ancora vivo anche in Italia mi pare che qui ci sia come il momento teppistico di Bolagno cioè Bolagno da una parte è una specie di eterno adolescente se voi leggete i detective selvaggi è appunto la storia di questi due poeti questo gruppo di poeti totalmente contrari all'establishment che odiano per esempio Octavio Paz Octavio Paz era lo scrittore più famoso all'epoca in America Latina era lo scrittore messicano il poeta messicano più famoso avendo il premio Nobel e loro lo odiano fondamentalmente è come se uno avesse odiato fino all'anno scorso Umberto Eco fino a prima che morì cioè il monumento quindi però è come se si mettessero in questa posizione epigonale una posizione di figli rispetto a un padre di solito è difficile che uno scrittore che si mette in una posizione epigonale e che scende in polemica con i propri padri senza aver consumato questa polemica possa scrivere un capolavoro quale è i detective selvaggi come dice il grande critico letterario Harold Bloom canone occidentale ecco se volete un libro di critica fighissimo su tutto quello che è successo dal 1300 in poi nella letteratura prendetevi questo librone che si chiama canone occidentale che probabilmente l'ha scritto il più grande critico letterario vivente fra poco non più vivo perché comunque c'è un'età quindi insomma alla fine fra vent'anni Harold Bloom magari arriva a cento anni ma magari non sarà però è bellissimo questo libro qui lui dice per acquisire una voce propria gli scrittori devono scegliere in polemica con i propri padri letterari cioè tipo Beckett deve litigare con Joyce tipo Agatha Christophe deve litigare con Kafka Svevo deve litigare a sua volta pure lui con Joyce però poi devono superarla questa cosa qui cioè si supera questo scendere in agone con il padre acquistando una voce propria quindi tu litigi con Shakespeare a un certo punto fai pace con Shakespeare sei diventato adulto puoi scrivere il tuo capolaboro la cosa bizzarra di Roberto Bolagno è che contemporaneamente se leggete Detective Selvaggi sembra che ci sia l'adolescente Bolagno che sta scrivendo che appunto è in polemica con tutto e con tutti con ogni tipo di potere e al tempo stesso però il libro sembra scritto ad anni luce di distanza dai personaggi raccontati cioè qual è l'impressione che si ha leggendo Bolagno che secondo me è l'impressione che si ha leggendo i grandissimi è che sembrano libri scritti dopo la morte dell'autore cioè sembra che gli abbia scritto un fantasma nei grandissimi romanzi succede questa cosa qua cioè tu hai da una parte un grandissimo coinvolgimento personale un grandissimo coinvolgimento emotivo ma dall'altra sembra sempre che questa roba qua te la stia raccontando qualcuno che guarda le cose da una saggia distanza che è soltanto quella che c'è dopo la morte cioè in alcuni momenti di Bolagno sembra che appunto che i detecti selvaggi non so come i grandissimi libri anonimi come la Bibbia chi cacchio l'ha scritta la Bibbia non si sa i morti l'hanno scritta la Bibbia ci sono racconti stratificati che a un certo punto non appartengono più a nessuno ecco Bolagno ti dà certe volte l'impressione di pur raccontando i fatti propri che in realtà quei fatti propri siano carichi dei fatti appunto quando dice questo è il racconto del Sud America è vero è come se lui si fosse fatto carico di un paio di generazioni e fosse riuscito a raccontarle attraverso una storia personale questo succede soltanto veramente nei grandi romanzi e poi dice anche cosa è terra terra come ha fatto a far innamorare sua moglie cucinandole del riso risponde lui a quel tempo ero molto povero e la mia dieta in pratica era tutta basata sul riso così avevo imparato a cucinarlo in mille modi diversi ha mai sofferto per amore la prima volta sì poi ho imparato a prendere le cose con un po' di senso dell'umorismo pensa qualche volta ai suoi lettori quasi mai risponde che cosa la fa arrabbiare questa intervista è stata data qualche mese prima di morire e dice a questo punto arrabbiarsi vuol dire perdere tempo e purtroppo alla mia età il tempo conta questo è divertente ha mai avuto paura dei suoi fan lui risponde una volta ho avuto paura dei fan di Leopoldo Maria Panero che è un poeta che considero peraltro uno dei tre migliori poeti spagnoli viventi a Pamplona durante una serie di incontri organizzati da Gesù Ferrero Panero chiudeva la manifestazione e man mano che si avvicinava il giorno della sua lettura il quartiere dove era il nostro albergo e tutta la città si riempirono di fric gente che sembrava appena scappata dal manicomio che d'altra parte è il pubblico migliore che si possa aspettare qualunque poeta il problema è che alcuni di quelli non sembravano soltanto dei pazzi ma anche degli assassini e io e Ferrero avevamo paura che a un certo punto uno si alzasse e dicesse voglio ammazzare Leopoldo Maria Panero e poi sparasse quattro colpi in testa al poeta e già che c'era uno a Ferrero e l'altro a me che cosa prova quando alcuni critici sostengono che lei è lo scrittore latino-americano con più futuro lui l'anno dopo sarebbe morto deve essere una battuta risponde lui io sono lo scrittore latino-americano con meno futuro a dire il vero sono anche quello con più passato che alla fine è l'unica cosa che conta quando mi dicevo che sembrano alcuni suoi libri caricarsi di un tempo in cui lui non ha vissuto è un po' questa roba qua che cosa la noia il discorso vuoto della sinistra il discorso vuoto della destra lo do per scontato come è fatto il paradiso come Venezia spero un posto pieno di italiane e di italiane meno male c'è questa opinione per noi un posto che si usa e si consuma come Venezia un posto che che sa che nulla dura per sempre nemmeno il paradiso è l'inferno e lui dice come non so come si pronuncia Ciudad Juarez che sarebbe praticamente quello che lui chiama Santa Teresa c'è questa città messicana che è vicino al deserto di Sonora dove c'è stato praticamente il caso più agghiacciante credo di femminicidio della storia occidentale c'è un libro molto bello di un giornalista che si chiama Ossa nel deserto pubblicato da Delphi che racconta appunto di tutte queste donne ammazzate e poi sepolte nel deserto di Sonora vicino a Città Juarez che lui appunto battezza così cioè battezza come Santa Teresa tra l'altro via Santa Teresa è anche la via dove c'è la fondazione del Salone del Libro infatti mi sono spaventato quando la prima volta ci sono arrivato ho detto cazzo speriamo che non sia di cattivo auspicio che è la nostra maledizione è il nostro specchio lo specchio inquieto delle nostre frustrazioni di latino americani e della nostra interpretazione della libertà e del desiderio e poi e poi e poi e poi continuo va bene e a che cosa dice a chi pensa che i detective selvaggi sia il più grande romanzo messicano contemporaneo che lo dicono per compassione risponde lui vedono che sono un debilitato che svengono nelle pubbliche piazze il tempo stava male e non trovano niente di meglio da dire in una bugia pietosa in effetti la cosa più indicata in questi casi un peccato meno che veniale ma non è appunto il più bel romanzo latino americano e poi va bene continuo questa cosa queste interviste le travate anche online queste interviste sono state raccolte in un libro di sur ma in realtà sono sparsi un pochettino è anche commovente l'ultima domanda perché è confessa che è vissuto beh sono ancora vivo rispondi lui continuo a leggere continuo a scrivere e a guardare i film come disse Arturo Pratt i marinai suicidi della Esmeralda finché avrò vita questa bandiera garrirà al vento la storia di Bolagno in realtà è anche un po' sfortunata per questo oltre al fatto che lui è morto anche rispetto ai suoi amici perché ci sono delle coincidenze nella vita di Bolagno che purtroppo alimentano la leggenda ma io la leggenda come vi dire ve la racconto soltanto per farvi incuriosire al personaggio perché poi voi leggiate i libri poi magari se abbiamo tempo qualche paginetta dei detective selvaggi ve la leggo è tragica anche la storia della sua amicizia con questo Mario Santiago perché lui scrive cioè lui va via dal Messico no? vai in Europa non c'ha una lira per tornare in Sud America Mario Santiago rimane in Messico e loro si scrivono in continuazione come se fossero due fidanzati proprio una coppia di fidanzati si scrivono negli anni non si vedono mai uno è la musa dell'altro ma soprattutto Santiago è la musa di Bolagno fino a quando lui non incomincia appunto a mettere su carta che è appunto i detective selvaggi il libro in cui Mario Santiago è il co-protagonista e scrive una lettera che è veramente la lettera di un innamorato dice sto con le finestre aperte all'epoca non c'era internet quindi non avete la cartacea sto con le finestre aperte fuori piove una tormenta d'estate lampi, tuoni queste cose che eccitano la malinconia come sta il Messico? chiede Bolagno a Santiago che è rimasto lì come stanno le strade del Messico il mio fantasma gli amici invisibili quando miglioreranno le mie finanze apparirò a casa tua una notte qualsiasi e se no fa lo stesso il fatto che abbiamo percorso insieme il percorso scusatemi che abbiamo fatto insieme è storia e rimane sospetto intuisco che ancora vivo in mezzo all'oscurità ma vivo chi lo avrebbe detto sfidante bene non diamoci troppe arie sto scrivendo un romanzo dove tu ti chiami Ulisse Slima il romanzo si chiama i detective selvaggi un forte abbraccio Bolagno e Roberto lettera inviata a Barcellona e lui a un certo punto succede questa cosa qua che è proprio la sfiga il libro viene no il libro non viene stampato Roberto Bolagno ha le bozze del libro spedisce le bozze del libro a Mario Santiago a cui è dedicato queste bozze non gli arriveranno mai perché in una di queste notti qua dopo aver ricevuto questa lettera Santiago esce forse ubriaco per strada viene messo sotto da una macchina e muore quindi non saprà mai che diventerà il protagonista del romanzo più famoso del Sud America del ventunesimo secolo o uno dei più famosi quindi c'è questa specie di sfortuna che veramente si accanesce in maniera feroce appunto su queste sulle persone proprio i detective selvaggi perché questo libro è così importante ecco soprattutto per chi scrive ma anche appunto per noi semplici lettori è interessante come è strutturato come vi dicevo è la storia appunto di questo gruppo di poeti i realvisceralisti inizia con un incipit che forse avete sentito l'incipit è sono stato cordialmente invitato a far parte del realismo viscerale naturalmente ho accettato non c'è stata cerimonia di iniziazione meglio così non so bene in cosa consista il realismo viscerale così inizia questo romanzo ed è diviso in tre parti e qui appunto per chi si interessa appunto proprio di teoria di narrazione andrebbe studiato perché la prima parte è tutta quanta in prima persona sono stato cordialmente invitato a far parte del realismo viscerale e praticamente sarebbe il diario di uno studente della facoltà di giurisprudenza che però vuole fare lo scrittore il poeta che si come dire che si attacca a questi due poeti Belano e Lima e ne racconta la storia stacco dopo circa 150 pagine e iniziano credo una sessantina di monologhi più o meno che sono quelli di tutte le persone quindi cambia continuamente il punto di vista sono tutte quante le persone che hanno conosciuto Belano e Lima un po' come qualcuno di voi ha mai visto il quarto potere di Orson Welles dove la storia di Citizen Kane viene raccontata da tanti punti di vista qui la storia appunto di Belano e Lima viene raccontata da 800 punti di vista non ci sono mai loro che parlano in prima persona quindi è come sono come degli specchi che riflettono in continuazione dei corpi che però non prendono mai voce cioè prendono voce soltanto per voce altrui e poi c'è la terza parte in cui lo studente iniziale quello che raccontava in prima persona riprende il suo racconto ma nel frattempo passano 400 pagine cioè ci vogliono due palle così per provare a scrivere un romanzo del genere per scriverlo e poi per scommetterci qualche cosa vi leggo ecco per farvi perché finora come dire abbiamo scherzato nel senso che non abbiamo letto letteratura abbiamo letto l'intervista a Bolagno vi ho raccontato un poco ah scusate una cosa interessantissima perché questo romanzo può essere scritto soltanto fra il ventesimo e il ventunesimo secolo anche se il romanzo è ambientato fra gli anni settanta e gli anni novanta quindi quando internet ancora non esiste in realtà queste persone formano una rete se voi leggete i dettagli selvaggi sembra quasi che i personaggi siano tra loro interconnessi come se come se al posto di internet ci fosse una rete neurale che li unisce tutti quanti è interessantissimo come ogni monologo abbia un pezzo che viene sviluppato poi dal monologo non successivo ma dieci monologhi dopo e non so lui come abbia fatto a costruire questa specie di rete neurale fatta di una sessantina settantina di monologhi eppure questa cosa qui secondo me è possibile farla soprattutto ai tempi di internet uno dice come la rete cioè come le nuove tecnologie influiscono con la letteratura cioè influenzano la letteratura la influenzano ma purché la letteratura sappia convertirla in codici letterari cioè in maniera imprevista non è che ok c'è internet allora mettiamo internet nella letteratura mettendo le mail gli scambi di mail se questo lo fa per esempio benissimo Jonathan Franzen nelle correzioni dove c'è tutto lo scambio di chip con i suoi parenti e con i suoi datori di lavoro però in questo modo qua è un modo molto più profondo per farlo pensate soltanto alla diffusione della posta la posta come dire cartacea come questa viene sfruttata dalla Clos nelle relazioni pericolose che è tutto un romanzo epistolare che però si basa tutto quanto su che cosa succede quando una missiva arriva in ritardo in anticipo con un'informazione vitale per chi la deve ricevere oppure pensate ecco il romanzo non facile però interessantissimo sul sistema postale l'incanto dell'849 di Thomas Pynchon dove lui si immagina che c'è un sistema postale alternativo a quello ufficiale e qua ci costruisce tutta la teoria del complotto che oggi è diventata mainstream comunque appunto vi dicevo questo è un romanzo che può essere scritto soltanto fra il ventesimo e il ventunesimo secolo anche se è ambientato negli anni settanta e adesso una parte di sta cosa la leggiamo finalmente sempre chi abbia fiato perché sto morendo però qua passiamo proprio alla letteratura vera e propria e c'è il monologo come vi dicevo cambia continuamente prospettiva e c'è e punto di vista c'è il monologo di questa di questo personaggio che si chiama Auxilio Laucuture facoltà di lettere e filosofia città del Messico dicembre 1976 e lei prende voce a un certo punto e dice io sono la madre della poesia messicana io conosco tutti i poeti e tutti i poeti conoscono me io conobbi Arturo Belano quindi no parla sempre altri parlano di loro io conobbi Arturo Belano quando aveva 16 anni ed era un bambino timido e non sapeva bere io sono uruguayana di Montevideo ma un giorno arrivai in Messico senza sapere bene perché né a quale scopo né come né quando io arrivai a città del Messico distretto federale nell'anno 1967 o forse l'anno 1965 o 1962 non mi ricordo più né le date né le peregrinazioni l'unica cosa che so è che arrivai in Messico e non me ne andai più io arrivai in Messico quando era ancora vivo Leon Felipe che colosso che forza della natura e Leon Felipe morì nel 1968 io arrivai in Messico quando era ancora vivo Pedro Garfias che grand'uomo come era malinconico e Don Pedro morì nel 1967 e quindi io devo essere arrivata prima del 1967 mettiamo quindi che sia arrivata in Messico nel 65 ecco credo di essere arrivata nel 65 ma può darsi che mi sbagli e frequentai quegli spagnoli universali quotidianamente ora dopo ora con la passione di una poetessa e di un'infermiere inglese e di una sorella minore che perde il sonno per i fratelli maggiori e loro mi dicevano con quell'accento spagnolo così particolare come chiudendo le Z e le C in un circoletto e lasciando le S più orfane e libidinose che mai a auxilio dicevano smettila di trafficare per casa a auxilio lascia stare quelle carte una buona volta che la polvere è sempre andata d'accordo con la letteratura e io dicevo loro Don Pedro Leon guarda che strano al più vecchio e venerabile davo del tu il più giovane invece mi intimidiva tanto che non riuscivo a rinunciare a lei lasciate che me ne occupi io dicevo fate pure le vostre cose continuate a scrivere tranquilli e fate conto che io sia la donna invisibile e loro ridevano o meglio Leon Felipe rideva benché fosse difficile dire se devo essere sincera se stesse ridendo tossicchiando bestemmiando e Don Pedro non rideva Pedrito Garfias com'era malinconico lui non rideva lui guardava con quei suoi occhi come di lago all'imbrunire quei laghi che stanno fra le montagne e che nessuno visita quei laghi tristissimi e placidi così placidi che non sembrano di questo mondo diceva non disturbarti a auxilio o grazie a auxilio e non diceva nient'altro che uomo divino e così io li frequentavo come dico senza slealtà senza posa senza soffocarli mostrando loro le mie poesie e cercando di rendermi utile ma facevo anche facevo anche altre cose facevo lavoretti cercavo di fare dei lavoretti perché vivere nel distretto federal che sarebbe città del Messico è facile come tutti sanno credono o immaginano ma è facile solo se si ha qualche soldo o una borsa di studio o un lavoro e io non avevo niente il lungo viaggio verso la regione più trasparente mi aveva svuotata di molte cose fra le quali l'energia necessaria per lavorare in una cosa qualunque e così quel che facevo era girare per l'università più precisamente per la facoltà di lettere e filosofia facendo lavori volontari potremmo dire un giorno per esempio aiutavo a battere a macchina i corsi del professor García Liscano un altro traducevo dal francese nel dipartimento di francese un altro ancora mi appiccicavo come una zecca al gruppo che faceva teatro e passavo otto ore senza esagerare a seguire le prove ad andare a prendere panini a manovrare sperimentalmente le luci e così arrivai al 1968 o il 1968 arrivò da me ora potrei dire che lo presentì che ne sentì l'odore nei bar nel febbraio o nel marzo del 68 ma prima che il 68 diventasse il 68 ah mi fa ridere ricordarlo mi fa venire voglia di piangere sto piangendo io vedi tutto e al tempo stesso non vedi niente io ero e qua comincia il vero racconto di auxilio alla facoltà quando l'esercito violò l'autonomia ed entrò nel campus ad arrestare o ad ammazzare tutti quanti no all'università non ci furono molti morti fu a piazza delle tre culture che questo nome rimanga nella nostra memoria per sempre ma io ero in facoltà quando l'esercito e i granatieri entrarono e caricarono gli studenti che cosa incredibile io ero ai gabinetti nei gabinetti di uno dei piani della facoltà il quarto credo non potrei precisarlo ed ero seduta sul water con le sottane alzate come dice la poesia o la canzone leggendo le delicate poesie di pedro garfias e pensare che era morto un anno prima don pedro sempre così malinconico così triste per la spagna e per il mondo in generale ti avrebbe mai immaginato che l'avrei letto al gabinetto proprio nel momento in cui i fottuti granatieri entravano nell'università io credo e mi si permette l'inciso che la vita sia colma di cose meravigliose ed enigmatiche e di fatto grazie a pedro garfias alle poesie di pedro garfias e al mio inveterato vizio di leggere al gabinetto io fui l'ultima ad accorgersi che i granatieri erano entrati che l'esercito era entrato e che stavano caricando qualunque cosa si trovassero davanti diciamo che sentì un rumore un rumore nell'anima e diciamo che poi il rumore crebbe e crebbe e che a quel punto prestai attenzione a quel che succedeva sentì che qualcuno tirava la catena di un water vicino sentì sbattere la porta passi nel corridoio e il clamore che saliva dai gradini da quel prato così ben curato che incornicia l'università come un mare verde intorno a un'isola sempre pronta alle confidenze e all'amore e allora la bolla d'aria della poesia di pedro garfias fece puff e chiusi il libro e mi alzai tirai la catena aprì la porta feci un commento a voce alta dissi insomma cosa succede lì fuori ma nessuno mi rispose tutte le utenti del gabinetto erano scomparse dissi insomma non c'è nessuno sapendo fin da subito che nessuno mi avrebbe risposto non so se conoscete la sensazione e poi mi lavai le mani mi guardai allo specchio vidi una figura alta magra bionda con alcune già troppe rughette sulla faccia la versione femminile di Don Quixote come mi dissi una volta pedro garfias e poi uscì in corridoio e lì mi resi subito conto che era successo qualcosa il corridoio era vuoto e le grida che salivano dalle scale erano quelle che rintronano e fanno la storia che cosa feci allora quel che avrebbe fatto chiunque mi affacciai una finestra e guardai giù e vidi i soldati e poi mi affacciai un'altra finestra e vidi dei carri armati e poi è un'altra in fondo al corridoio e vidi le camionette su cui stavano caricando gli studenti e i professori arrestati come in un film sulla seconda guerra mondiale mescolato con un film sulla rivoluzione messicana un fondale scuro con piccole figure fosforescenti come si dice vedano certi pazzi o le persone in preda agli attacchi di panico e allora mi dissi rimani qui e auxilio non permettere bambina che arrestino anche te rimani qui e auxilio non entrare volontariamente in questo film bambina se vogliono infilarci anche te si prendono a meno il disturbo di venirti a cercare e allora tornai nei gabinetti e guarda che combinazione non solo tornai nei gabinetti ma tornai al gabinetto proprio lo stesso dove ero stata prima e tornai a sedermi sulla tazza del water voglio dire di nuovo con le sottane alzate e le mutande abbassate pur senza alcuna urgenza fisiologica dicono che in casi come questi l'intestino si liberi ma non fu il mio caso ecco il libro di pedro garfias aperto e sebbene non avessi voglia di leggere mi misi a leggere lentamente parola per parola verso per verso e all'improvviso senti dei rumori in corridoio rumori di stivali rumori di scarponi chiudati oh basta mi dissi troppe coincidenze non ti pare e allora udì una voce che diceva qualcosa del tipo che era tutto a posto può darsi che dicesse qualcos'altro e qualcuno forse la stessa carogna che aveva parlato aprì la porta dei gabinetti ed entrò e io sollevai i piedi come una ballerina di Renoir le mutande come manette intorno alle mescarne caviglie impigliate in un paio di scarpe che avevo allora dei bocassini gialli comodissimi e mentre aspettavo che il soldato ispezionasse i gabinetti uno per uno e mi preparavo giunto che fosse il momento a non aprire a difendere l'ultimo baluardo di autonomia dell'università io una povera poetessa uruguayana chiamava il Messico con tutto se stessa come se il tempo mentre aspettavo dico si fece un silenzio speciale come se il tempo si frammentasse e corresse contemporaneamente in diverse direzioni un tempo puro né verbale né composto di gesti o di azioni e allora vidi me stessa e vidi il soldato che si guardava rapito nello specchio tutti e due immobili come statue nel gabinetto nel gabinetto delle donne del quarto piano della facoltà di lettere e filosofia e questo fu tutto perché poi sentì i suoi passi che si allontanavano udì la porta che si richiudeva e le mie gambe sollevate come per decisione propria ritornarono nella loro posizione originaria dovetti rimanere così per due o tre ore immagino so che cominciava a imbrunire quando uscì dal gabinetto la situazione era nuova lo ammetto ma io sapevo cosa fare io sapevo qual era il mio dovere e così mi arrampicai sull'unica finestra dei gabinetti e guardai fuori vidi un soldato sperduto in lontananza vidi la sagoma di un carro armato o l'ombra di un carro armato come il portico della letteratura latina come il portico della letteratura greca quanto mi piace la letteratura greca vidi il vento che percorreva l'università come se si beasse degli ultimi chiarori del giorno e seppi quel che dovevo fare lo seppi seppi che dovevo resistere così mi sedetti sulle mattonelle dei gabinetti delle donne e approfittai degli ultimi raggi di luce per reggere altre tre poesie di Pedro Garfias e poi chiusi il libro e chiusi gli occhi e mi dissi auxilio laucuture cittadina uruguayana latinoamericana poetessa e viaggiatrice resisti solo questo e poi mi misi a pensare al mio passato così come ora penso al mio passato mi misi a pensare a cose che forse a voi non interessano proprio come ora rivolgo i miei pensieri ad Arturo Belano al giovane Arturo Belano che conobbi quando aveva 16 anni o 17 anni nel 1970 quando io ero già la madre della giovane poesia messicana e lui un ragazzetto che ancora non sapeva bere da uomo ma si sentiva orgoglioso che nel suo lontano Cile avesse vinto le elezioni Salvador Allende e quindi è tutto così quindi spero di avervi fatto venire voglia di reggere sto benedetto Detective Selvaggi e finisco poi se volete fate qualche domanda perché come dice abbiamo fatto una certa sono le 8 e 20 ultima ultima paginetta di Bolagno perché questo invece è un viatico per voi proprio cioè per noi in realtà pochi mesi prima anzi no pochi mesi credo poche settimane prima di morire che poi concludiamo ma vi perdete forse il meglio e Bolagno viene invitato perché è diventato un po' un mito per gli scrittori spagnoli sudamericani eccetera eccetera i giovani scrittori spagnoli lo invitano a Siviglia lo invitano a Siviglia per tenere una conferenza perché lui è diventato un po' il loro fratello maggiore come Cortazar era stato il fratello maggiore di Bolagno e lui questo vale per gli scrittori ma vale per tutti quelli che incominciano a fare qualcosa nella vita quindi sostituite la parola scrittura latinoamericana o scrittura spagnola con qualunque cosa vi capiterà di fare e lui dice poco prima di morire questo è il suo testamento con un pubblico davanti ovviamente io non voglio reincarnare fare le sue reincarnazioni anche perché quello morì poco dopo in teoria e senza che io avessi nulla a che vedere con la scelta dell'argomento la mia conferenza dice Bolagno si sarebbe dovuta chiamare da dove viene la nuova letteratura latinoamericana sostituita sta parola a quello che vi pare se mi fosse attenuto fedelmente al titolo la risposta non avrebbe superato i tre minuti veniamo dalla classe media o da un proletariato più o meno sistemato o da famiglie di narcotrafficanti di seconda linea che già preferiscono alle ferite d'arma da fuoco la rispettabilità la parola chiave è e cioè la maledizione è rispettabilità un tempo gli scrittori provenivano dalle classi alte o dall'aristocrazia e scegliendo la letteratura sceglievano almeno per un periodo lo scandalo sociale la distruzione dei valori tradizionali la burla e la critica permanente ora al contrario soprattutto in America Latina ma sostituite quello che volete gli scrittori provengono da classi medio-basse o dalle file del proletariato e ciò che desiderano a fine giornata è una tenue patina di rispettabilità e cioè gli scrittori oggi cercano il riconoscimento ma non il riconoscimento dei loro pari quanto piuttosto il riconoscimento di quelle che si chiamano istanze pubbliche i detentori del potere e tramite esso il riconoscimento del pubblico vale a dire la vendita di libri che fa felici le case editrici ma che fa persino più felici gli scrittori quegli scrittori che sanno poiché lo hanno vissuto da piccoli quanto è duro lavorare otto ore al giorno o nove o dieci che furono le ore lavorative dei loro padri quando c'era lavoro fra l'altro perché è peggio che lavorare dieci ore al giorno e non poter lavorare neanche una e trascinarsi in cerca di occupazione nel labirinto o meglio lui dice nel cruciverbo atroce dell'America Latina e così i giovani scrittori diceva Bolagno si scaldano e si dedicano anima e corpo a vendere alcuni utilizzano più il corpo altri utilizzano più l'anima ma alla fine dei conti l'importante è vendere e che cos'è che non vende? e lui dice la rottura non vende una scrittura che si immerge con gli occhi aperti non vende per esempio Macedonio Fernandez non vende pertanto ripetiamo da dove viene la nuova letteratura latinoamericana la risposta è semplicissima viene dalla paura viene dalla orribile e in un certo senso abbastanza comprensibile paura di lavorare in officina viene dal deciderio di rispettabilità che non nasconde altro che paura potremmo sembrare a un osservatore disattento figuranti in un film di mafiosi new yorkesi sempre a riempirci la bocca di rispetto francamente a prima vista componiamo un deplorevole gruppo di trentenni quarantenni e tra loro cinquantenni in attesa di Godot che in questo caso è il Nobel il Rulfo o il Cervantes e concludeva dicendo spero che nessuno prenda male le mie parole di poco fa scherzavo vi giuro le ho dette per sbaglio a questo punto della vita non desidero più dei nemici gratuiti sono qui perché vi esidero insegnarvi a essere uomini non è vero scherzavo in realtà muoio di invidia quando vi vedo non solo voi ma tutti i giovani scrittori latinoamericani avete un futuro ve lo posso garantire ma non è vero scherzavo il vostro futuro è grigio come la dittatura castrista come la dittatura di Pinochet come gli innumerevoli governi corrotti che si sono succeduti uno via l'altro nella nostra terra spero che a nessuno venga in mente di sfidarmi a duello non posso farlo per prescrizione medica del resto alla fine di questa conferenza penso di chiudermi in casa a vedere un film porno volete che venga a vedere uno spettacolo di flamenco ancora una volta vi sbagliate sul mio conto perché io andrò da solo soltanto a un rodeo messicano o cileno o argentino e una volta lì fra l'odore di sterco fresco mi addormenterò e sognerò e infine il tesoro che ci hanno lasciato i nostri padri o quelli che crediamo in nostri padri putativi è deplorevole in realtà siamo come bambini intrappolati nello scantinato di un pedofilo qualcuno di voi dirà che è meglio essere alla merce di un pedofilo che alla merce di un assassino sì è meglio ma i nostri pedofili sono anche assassini e così volando chiudereva la cosa ora io avrei finito spero di avervi fatto venire voglia di leggere questo scrittore e di esplorarlo ma vi fate un favore frequentandolo e se qualcuno mi vuole fare qualche domanda sono qui per un'altra decina di minuti prego allora come di solito si scoprono gli scrittori cioè a distanza di 4-5 mesi i due-tre amici mi dicono staccati fra di loro quindi non si erano parlati mi dicono guarda tu devi leggere sto cacchio di Detectives io avevo letto in realtà Notturno Cileno che è un romanzo di Bolagno piccolo molto bello però secondo me non è all'altezza non è stato il romanzo che mi ha fatto innamorare quindi ho letto Notturno Cileno e poi ho mollato lì Bolagno fin quando dopo un paio due-tre anni mi capitano 5-6 mesi che due-tre persone che incontro per caso neanche amici stretti mi dicono guarda se non lo leggi sei un cretino al terzo cretino che mi sono preso ho detto vabbè per provare a smentire questa cosa qui quindi così è è nata è successo che come di solito non so per me è la testimonianza che il passaparola alla fine è il miglior viatico per un autore in un libro se uno dice cazzo ho letto questo autore ma ha cambiato la vita tu un minimo di credito a quella persona gliela dai un minimo di impressione te la fa e diciamo che un po' Bolagno ti cambia il modo di guardare la letteratura secondo me va bene ragazzi se non ci sono altre domande possiamo rompere le righe in bocca al lupo buona serata ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti